ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua per un'altra simpatica puntatella dedicata ai vostri video e vostri orologi a voi stessi diventate protagonisti del canale vi prendete quei famosissimi 15 minuti di fama come diceva Andy Warhol o giù di lì quella manciata di minuti che vi renderà noti al grande pubblico no grande pubblico i miei video li vendono una ventina di mila 20 30 mila persone non è proprio grande pubblico però ci stiamo anche avvicinando ai 100 mila iscritti ragazzi e questo non ho mai detto non ho mai voluto celebrare questi traguardi così però ci stiamo avvicinando questo mi fa piacere ora come partecipare lo sapete no basta mandare i video che durino sette minuti spigliati concisi simpatici no e poi qua noi ci divertiamo li guardiamo tutti assieme prima di girare la camera però vi voglio mostrare l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo long jean legend diver orologio con 39 mm di diametro cassa che qui vediamo con il cinturino in cordura color tortora che ha realizzato il mio amico jonco straps ogni tanto è giusto cambiare io ho tolto il suo bellissimo bracciale a chicchi di riso per l'amore del cielo bellissimo e gli ho messo questo qua per cambiare un po per portarlo al mare chiaro così a questo questo non so che di usurato no in cordura anche anche tecnico come materiale io al mare ce lo porto problemi non me ne faccio poi non significa che uno deve mettere il cinturino e deve sempre utilizzare il cinturino no si cambia una volta si usa il bracciale per un po un periodo si usa il cinturino magari anche un altro cinturino voglio provarlo che col nato cioè capito uno prova come come quando una le macchine cioè non è che deve sempre andare in giro con la ferrari a volte può andare in giro con la bentria io con la porsche si cambiano per diversificare per divertirci un po io ci ho messo questo qua che mi piace tanto adesso iniziamo diamo lo sguardo ai vostri video facciamo partire la barra spaziatrice con un colpo diretto dell'indice e noi poi ci divertiamo guardate dai fuoco ciao davide buonasera a tutti buonasera amici del canale cosa è scritto io mi chiamo Cesare sono qua con il figlio felice che poi si presenterà presenterà anche lui qualche orologio volevamo presentarvi la collezione nostra che è fatta di tanti orologi ne abbiamo selezionati alcuni non siamo diciamo magari esperti tecnici sui calibri eccetera però semplicemente ci piacciono e ne abbiamo diversi molti sono sicuramente gli orologi molto molto adattati molto usati ma comunque ci siamo divertiti a fare questa selezione tra quarzoni a batteria fashion ciofe che swatch vintage automatici ciofe che ce ne sono tanti e ne presentiamo alcuni mi piace sta cosa parliamo subito veloci con i quarzoni che sono quasi tutti diciamo in realtà dei sector comprati già alcuni anni fa io diciamo così come ve li faccio vedere li posiziono sopra perché voglio fare vogliamo fare un video che non abbia poi una durata eccessiva questo era l'SG mi sembra 650 mi piaceva perché aveva il datario completo con anche i giorni e le settivane sono sempre diciamo quarzoni sono sempre a batteria però sono più grossi quindi abbiamo chiamato i quarzoni questo è un che in quegli anni andava veramente molto di moda io ho 56 anni parliamo dirlo oggi di 25 30 anni fa anche di più in questo caso poi nella batteria mettiamo però hai visto le categorie no cioè sono un pochino perché ad esempio questa ciofeca qua potrebbe andare anche nella categoria ciofeche che vedo che viene dopo no che simpaticamente la pronta presente come quarzoni in quella batteria si te dici che sono più grandi come vintage e automatici il fashion nelle ciofeche oppure nella batteria va bene però giustamente hai dovuto decidere di dividerli in un certo modo e noi ti seguiamo sempre un kinze dei tempi in cui andavano le fasi lunari eccolo qua tutti gli orologi sono diciamo muniti della loro quasi tutti della loro scatola chiaramente sono in condizioni in alcuni casi diciamo funzionanti in altri casi occorre comunque metterci quantomeno una batteria appunto come abbiamo appena detto ed infine di nuovo uno swatch che ho usato tantissimo come si evince dalla usura del cinturino però molto poi abbiamo la parte fashion quindi cosiddetti diciamo moda e di questi abbiamo anche anche ora abbiamo praticamente anche noi un moon swatch questo è jupiter me l'ha regalato mia moglie per un natale comunque ritengo che sia un orologio molto bello e ogni tanto me lo metto al polso anche lui categoria molto bello questo che vi presento invece ha fatto molto discutere è un regalo che ho fatto mio figlio mi ha chiesto lui è un di uno milano che comunque sia un bel orologio lo trovo molto molto fine è un bel movimento automatico e diciamo di derivazione seico e quindi a lui piace e io sono contento per lui poi abbiamo un tris di soffè che pazzesco ma ne avrei veramente tantissime questi erano i k time che andavano in modo un sacco di anni fa sempre dalla kinzle completamente di plastica quarzone diciamo super plastificato la batteria ne avevo preso addirittura due perché avevo proprio diciamo così tanta voglia di indossarli fa per dire ovviamente non manca nella collezione un pseudo non so cosa diciamo orologio diciamo sovietico direzione sovietica non vedo nemmeno la firma quale sia però è sicuramente ciofeche ma come ciofeca ma ma non era un comandirsky quello lì lo fate rivedere un attimino mi sembra un comandirsky sto questo qua non è una ciofeca ragazzi è un comandirsky un orologio russo con la sua storia la sua personalità ma avete confuso un pochino le avete le idee confuse diciamo così dai guardiamo da dove riprendere qua da comandirsky sovietico direzione sovietica non vedo nemmeno la firma quale sia però è sicuramente ciofeche no non è ciofeche quindi sicuramente qua davide si può divertire con le nuove quantità di ciofeche che abbiamo presento poi alcuni swatch perché ne abbiamo tantissimi erano peccati di gioventuri diciamo così presento però quelli che io ho amato di più che sono quelli praticamente automatici questo praticamente diciamo sulla tonalità del blu questo nero con il suo datario sempre orologi automatici questi funzionano ancora tutti perfettamente sono originali ho tutte le scatole ancora tutti gli scontrini originali sono sempre pezzi che hanno almeno 30 35 anni qualcuno in più anche questo diciamo lo posizionano qua poi volendo potrei fare una specie di perché ne abbiamo veramente tutti i tipi di swatch ma è giusto così cioè la collezione ecco questo è la vera il vero scopo degli swatch di essere collezionati in questo modo qua li tiene anche tutti nelle loro scatole è possibile che li utilizzi che li usi magari ne usi due o tre ogni morte di papa no per divertimento un po ma il loro scopo essere collezionati d'altronde voglio dire ora no non per dire ma una collezione di qualsiasi cosa è anche impossibile usufruirne al cento per cento faccio un esempio io sto collezionando longin vintage no c'erano 12 10 non mi ricordo ok quando arriverò a 20 anche a 30 ma già adesso è impossibile che io utilizzo tutto ogni tanto me ne metto uno quando sono qua in casa in tranquillità me lo godo un pochino ma se arriverà un punto che non ha senso le collezioni per possederli per catalogarli per avere tutta la storia è lo stesso modo qua per avere la storia ma anche per avere tutti questi colori quadranti differenti edizioni dedicate a questo a quell'altro sono da collezione giusto così non li metto lì sono i cronaci sono gli scuva insomma allora ogni volta che voi in tasca 50 mila lire gli andavo a spendere bravo diciamo nello swatch vabbè è andata così a scimietta ora passiamo ai vintage ma vi presento mio figlio vai ciao davide eccomi mi chiamo felice felice io ti presenterò i vintage alcuni partendo da questo citizen bullhead ci sei anni adesso non lo so 70 anche di meno è veramente veramente bello come dicono tutti sul canale bravo il vintage poi citizen bullhead questo globus swiss made adesso non mi ricordo esattamente il come si chiamino questo questa tipologia di orologi però saltarello se non ancora è automatico manuale però saltarello lo mettiamo qui bello passiamo adesso a un mi vada veramente veramente vecchio il quadrante ormai è andato diciamo e però è molto bello e funziona ancora quindi sono contento meno poi ultimo ma non per l'importanza un braiding che apparteneva a mio nonno anche questo qua manuale e con il cronografo sul quale mio padre ha fatto cambiare il cinturino di recente mettendo questo bel cinturino blu ora passiamo agli automatici e ritorniamo con mio padre eccomi davide sono di nuovo qua allora abbiamo finito ci sono alcuni automatici che poi sono quelli diciamo su cui ho fatto un maggiore investimento perché poi negli anni ho smesso di comprare gli sbocci ho comprato qualche orologio un po più importante e quindi c'è questo diciamo zenith elite che però nel frattempo ha comunque sempre almeno 25 anni è un orologio bellissimo mi piace veramente tanto allora era stato premiato come movimento diciamo automatico più piatto al mondo cerco di tenerlo meglio che posso lo indresso comunque ancora molto spesso e mi piace veramente penso che sono degli orologi più belli che io ho avuto e poi allora lo zenith elite è uno di quegli orologi che io ho sempre tenuto sotto controllo lì sui vari portali ho scritto anche un articolo interessante sul mio sito contatori del tempo punto it andate a visitarlo non faccio mai pubblicità al mio sito però c'è esiste il mio sito contatori del tempo punto it e ho scritto un simpatico articolo sullo zenith elite che è lì nei primi anni 2000 con quel calibro lì elite che è veramente un bel calibro incomincia ad avere un pochino diciamo a subire il tempo a livello di design ma è veramente un orologio che mi è sempre piaciuto molto poi c'è anche lo zenith elite dual time che anche quello lì è veramente carino 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 bravo bello bella chiappa va bene mi sono comprato anche dei rolex il primo che ho comperato avevo 45 anni è questo submariner bravo sono piuttosto noti ovvio che di tutti questi orologi ho la loro scatola la garanzia li ho comprati al prezzo di listino e in alcuni casi anche in sconto questo una volta ti facevano 20 per cento di sconto di 12 anni fa quando l'ho comperato poi quello che stavo indossando diciamo oggi lo faccio vedere direttamente al polso è praticamente il 16 613 mi sembra un 2003 sempre un perfetto perfettamente funzionato c'ho anche la ghiera diciamo che posso cambiare è in oro acciaio è un orologio che mi piace perché secondo me è quello che mi sta meglio al polso perché ha un diametro leggermente più piccolo dei modelli successivi poi infine mi sono riuscito ad accaparrare anche del famoso Hulk preso nel 2019 dopo due anni di attesa ho comprato dal concessionario al suo prezzo e quindi direi che da questo punto di vista diciamo ho fatto gli acquisti che hanno un senso perché non avrei mai speso più di quello che era il prezzo di destino concludo con diciamo qualcosa che magari possa far sorridere ed è praticamente secondo noi il vincente di tutto questo e quindi mi ha scritto and the winner is e si tratta di questo orologio che comprai quando avevo forse neanche 18 anni al mare in un negozio dove facevano anche diciamo vestiti anche piuttosto che tatuaggi e questo è veramente il re penso delle ciofeche non ricordo diciamo non riesco neanche a leggere di chi è però devo dire la verità ho trovato praticamente e con questo chiudo e vi saluto con la ricerca che effettivamente è un orologio che esiste ed è questo oggi è stato pure venduto ad all'asta a 72 euro quindi direi che diciamo una cosa piuttosto vergognosa e incommentabile detto questo un saluto di nuovo a tutti gli amici del canale a te e complimenti per il tuo diciamo canale che è molto bello e molto seguito molto bene ciao 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 ragazzi molto bello e molto seguito canale si chiama canale semplicemente canale e niente quest'ultimo obrobrio mi ha un attimino no come dire colpito colpito al cuore veramente sembra il il globo di notre dame mamma mia che brutto nemmeno la scimmietta ha resistito quando quando ho visto quel quello quello orologio lì si è girata di lato e ho visto che aveva dei conati dei piccoli conati di vomito poverina si è ammalata tutta un colpo da una parte va bene perché almeno per un pochino è fuori servizio e non inizia a rompere le scatole a vedere le cosine no di questo 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 però gli ha fatto male gli ha fatto male sto orologio storto vabbè io ti do ti do un 7 ti do un 7 un semplice 7 perché vabbè lì mi ha fatto vedere un cioè vabbè un sacco di orologi no anche la collezione di swatch è interessante complimenti bello zenith elite lì da parte però quello che mi lascia mi lascia perplesso e 33 rolex submariner è comprato tre rolex submariner ognuno fa quello che gli pare per l'amor di cielo ti dico io il mio parere no che con i soldi di tre rolex submariner io uno lo prendevo un submariner no quello più più standard per me io quello nero semplice e poi con gli altri soldi mi ci prendeva degli altri orologi come fai a resistere senza avere degli orologi al pari livello di un submariner no uno zenith per esempio anche anche meglio un zenith il primo è uno mega speed master cioè un cartier ma un panerai ci sono un sacco di orologi costosi che secondo me è bene diversificare per me e ti spiego come avere più orologi più marchi più modelli piuttosto che tre su mariner 111 verde uno acciaio oro blu e uno nero non mi garba come via comunque un bel set e te lo si è preso e complimenti anche per il vice anche per quel brightling cronografo del nonno io ho visto che ai subcontatori incavi no sono dei recessi è una secondo me questa qua è una feature che è da poco tempo che viene utilizzata quindi non è un vintage degli anni 50 60 mi sa come più degli anni 80 questo vintage 70 al massimo comunque begli orologi dai 7 te lo siete presi lo dividete per due fa tre e mezzo a testa e a casa prossimo video ciao davide sono marco di como ecco in altro attualmente in vacanza e volevo farti vedere una selezione di orologi nel loro habitat naturale bravo queste frasi fatte iniziamo con questo lui vuitton tambur ma ce lo conosco sa omega si master 300 river vetta jumbo star crono dai river vetta jumbo star 660 cassa e bracciale in pvd so che non li adori ma ora bello ho anche quello in acciaio bravo pelagos tudor pelagos blu diamo bel top tudor bronzo un altro tudor tudor ghiera rossa top ma ora no tudor black bay nero presentato quest'anno top logini che non jim idro con quest bravo e infine ultimo ma non per importanza longin legend diver bravo l'ho tenuto per ultimo perché è quello che mi terrò per il resto della giornata bravo e forse anche per domani grazie grazie per lo spazio che mi vorrei concedere un saluto a tutti sei un grande grazie la 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 ora io me lo immagino sto qua lì nella piscinetta dell'hotel magari tre per due una vasca da bagno è con la moglie lì di fianco passami l'orologio si mette l'orologio lo mette nell'acqua lo tira fuori fare ripresa tieni passami quell'altro tutto per fare un videino di due minuti e apparire però 8, ti do 8 io ti do 8 perché è una bella collezioncina oddio è come il video precedente dove c'è tre Rolex Submariner qua c'hai un sacco di di Tudor, c'hai due Black Bay mi sembra, o tre un Ghira Rossa, quello nero vabbè, non so se mi ricordo l'altro poi alla fine c'è il Legend Diver, il Pelagos il Pelagos è quello con più personalità, il Titanio il Titanio il Titanio io devo farmi un piacere prima o poi, va bene dai 8 te l'ho dato ti sei anche impegnato per fare questo bel videino simpatico, colorato, estivo dai ci sta, ci sta ragazzi, prossimo video ciao Davide, ciao saluto a tutti gli amici del canale questo è il mio secondo video, ti mando un update iniziamo con una carrellata sulla collezione che ti ho già mostrato lo Zenith 33 mm piccolino uno Omega Seamaster fine anni 50 35 mm bello questo un Seamaster Quarzun forse il primo quarto sul tuo canale che ha preso un like anzi un top e lo do ancora il top, è bello Speedmaster Reduced 39 mm trizio giallo fantastico il fratello maggiore moonwatch non è fratello maggiore lo vedi che lo vedi che il moonwatch c'è lo sguardo c'è lo sguardo no fisso che ti guarda negli occhi cerca di accalappiarti il Reduced è strabico lo vedi là come c'è tutti sbilenchi gli occhi vuole assomigliargli ma è venuto male il fratello scemo del moonwatch diciamo così esalite e infine un Air King 34 mm Blue Dael a me parere fantastico nell'ultimo video ti avevo detto che stavo pensando all'acquisto di un orologio di forma eh e ce l'abbiamo fatta cos'è? e c'è le cutre ecco il nuovo arrivato top c'è le cutre reverso bello eh no però senza taglia media secondo me è un orologio stupendo sempre desiderato Depo Layant molto bella ha fatto fare questo cinturino su misura che richiama il blu sul dial si riesca a vedere massimo si vede fammi sapere che ne pensi eh ciao ciao cosa ne penso io? il reverso in qualsiasi configurazione prendilo dual time prendilo come ti pare a te è sempre interessante no? ora l'unica cosa che no ma io dovrò anche anche questa è una cosa che prima o poi dovrò farmi piacere cioè gli manca la lancetta dei secondi no? per forse quello un po' un po' più piccolo rispetto a quello che piace a me che ha la lancetta dei secondi piccola è un po' più grande no? io quello vorrei un pochino più grande c'è un posso grande e devo dipingere una parete grande mi ci vuole un pennello grande no? come si diceva niente non ti do il voto gli altri orologi non gli ho dato nemmeno il topo perché l'avevi già presentato l'altra volta abbiamo fatto una carrellata e va bene così mi ha fatto vedere questo bellissimo reverso tanto per far alimentare la scimmietta che anche lei anche se vede la versione che non gli piace al 100% però si eccita hai capito? si eccita inizia già ad andare in ebollizione mi dice ma quello un po' più grande è quella lancetta perché non lo prendiamo? te lo ricordi che esiste? e io gli dico sì che me lo ricordo stai calmo poi prima o poi andiamo lo prendiamo quando è il momento e lei mangia la nocciolina si calma prossimo video ciao Davide sono Matteo da Bologna ho 17 anni è ormai da molti mesi che non mi perdo più un tuo video infatti ti faccio i complimenti per il canale perché risulta sempre molto intrattenitivo vorrei presentarti la mia collezione partendo dal primo pezzo ovvero questo Spinnaker modello Fleus ci piace Spinnaker è un marchio di cui non si sente tanto parlare ma che per qualità secondo me presenta delle finiture e dei materiali che sono paragonabili alla qualità Seiko non mi ho mai tradito non esageriamo ma ascoltate ma va bene tutti gli orologi sono fatti bene è difficile trovare gli orologi fatti male cioè io i punti deboli li trovo ma sono punti deboli non mi è ancora capitato un orologio veramente fatto male magari un paio sì però e non puoi dire è paragonabile alla qualità Seiko come dire perché e allora paragonavano anche agli altri non è che devi paragonarlo a un marchio è un bello orologio sono fatti bene gli Spinnaker ti dici che non si vedono c'è stato un periodo anni fa che eravamo sommersi dalle recensioni di Spinnaker cioè li mandavano a destra a sinistra a tutti gli youtuber d'Europa e si vedeva altro che Spinnaker 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 grande gruppo inglese che possiede anche Aviotto James McCabe e altri orologi vengono fatti a Hong Kong però sono fatti bene sono belli ora poi da qui a esaltarli a paragonarli a Seiko ma manco per il Minchion diciamo la verità passa un NH35 che è diciamo visibile anche dal fondello a vista che però ora no ma è venuto a mente solamente il fatto che c'è l'NH35 chi glielo dà loro l'NH35 la consociata di Seiko che vende terzi se non esisteva Seiko questi qua non esistevano nemmeno hai capito cioè Seiko ha fatto tutto si è costruito ai calibri poi li vende agli altri e ti mi vieni a dire con questo orologino qua lo paragoni a Seiko no non ci sto adesso non si vede perché gli ho abbinato un nato nero in vista dell'estate che gli conferisce un tocco di sportività in più anche grazie alla scritta rossa che indica la profondità sul quadrante ha un quadrante diciamo con finitura quasi sabbiosa che mi ha stregato quando l'ho comprato e è un 43 mm di diametro che secondo me per un diver è una dimensione perfetta ma sì avendo un polso molto grande lo apprezzo molto lo apprezziamo accettiamo dai come secondo pezzo ti presento questo ormai Bullova ormai vintage appartenuto a mia nonna che lo indossava lo indossava molto spesso infatti diciamo vede i segni del tempo ed è il primo orologio su cui diciamo ho messo le mani infatti quando l'ho trovato nel cassetto presentava una ghiera che neanche girava e l'ho tutto smontato e l'ho pulito e riassemblato adesso è diciamo è perfetto si presenta i suoi segni del tempo che però diciamo che fanno parte della storia dell'orologio per cui certo per cui non ho voluto diciamo proseguire nel restauro e lasciarlo così è sbragato il terzo pezzo che ti presento è molto importante per me poiché è una diciamo è frutto di un di un assemblaggio mia e di un mio amico che ne possiede uno uno identico e entrambi diciamo ormai completamente immersi nella passione degli orologi abbiamo deciso di assemblare un orologio nostro che avessimo solo noi due nel mondo e reperendo i pezzi su ebay in cassa un NH35 molto affidabile certo non dalle prestazioni fantasmagoriche ma che diciamo non perde non perde non perde mai un colpo ma ora scusa io c'è la lancetta lì non si legge c'è scritto marine master che c'è marine master è un modello di secco marine master poi la cassa non è quella di un rolex ma dal dietro sembrava quasi cioè vabbè una crocchione una crocione però è brutta la scritta marine master cioè boh siete contenti voi siamo contenti tutti c'è anche le scritte però le scritte sul quadrante sono come rolex 1000 feet 300 metri professional specification officially certified ecco queste qua sono cazzate ecco queste qua sono cazzate una scritta del genere su un quadrante è una cazzata è proprio te lo riduci a giocattolo professional specifications officially certified cosa cosa significa niente non sarà nemmeno 300 metri a questo punto hai capito vi siete costruiti un giocattolo per l'amicizia però vi siete costruiti un giocattolo che è una puttanata vabbè comunque siete contenti voi a parer mio era meglio che vi foste comprati un 6 con 5 cioè volete spendere poco un orient uno uguale per suggerire l'amicizia ecco qua invece così ce l'avete solo voi al mondo ma ce l'avete due cioffè che sono voi al mondo hai capito? è molto affidabile ora inizia a presentare i suoi segni del tempo ormai l'assemblaggio risale a circa un anno e mezzo fa in cui quando ci vediamo e abbiamo lo stesso orologio al polso diciamo siamo sempre abbiamo sempre una grande soddisfazione bravi così il quarto pezzo è questo Jungans al quarzo il cui design mi ha subito mi ha subito colpito per cui ho deciso di farlo mio e è molto sottile è quarzo per forza gli conferisce un diciamo un'iconicità e un'estetica tutta sua nonostante il il movimento al quarzo che dispiaccia un po' tuttavia la versione con un movimento automatico aveva un prezzo che era il doppio di quella del quarzo e pensando ecco qua un caso di quelli che io sempre dico quando il quarzo diventa un ripiego è lì che è da denigrare non denigrare nel senso da deprecare ho comprato la versione al quarzo perché quella meccanica gusta troppo e allora come farei ad essere soddisfatto di un oggetto che hai comprato per ripiego qualsiasi esso sia è difficile può anche succedere ma è difficile cosa diversa se uno compra un quarzo perché io ho preso l'onjin super quartz degli anni del 67 perché lo volevo avevo bisogno di quell'orologio lì di quel calibro lì che mi va rappresentare qualcosa oppure come ho i timex al quarzo oppure come ho il mio citizen eco drive che ci vado anche al mare al quarzo deve avere un senso se lo prendi per ripiego secondo me hai già perso mezza partita come diceva Spalletti di comprare diciamo soprattutto il marchio e quindi il design ho preferito risparmiare e avere comunque un pezzo che rispecchiasse appieno la filosofia Jungans cerchi di convincerti il quinto pezzo è questo Seiko bello quartzo vintage appartenuto a mio nonno non c'è molto da dire su questo orologio infatti è molto piccolino al quarzo non perde mai un secondo nonostante ormai porti anche lui i segni del tempo soprattutto ai lati piccolino non c'è molto da dire il quadrante è un po' rovinato però penso che lo terrò così sempre per lo stesso motivo bravo il penultimo pezzo è il mio primo diciamo acquisto di un mercatino un Monvis che incassa un IncaBlock 17 rubini ma IncaBlock non è un calibro IncaBlock è un sistema anti-shock ah il sistema anti-shock IncaBlock lo vedo là quello lì fatto così ma non è il calibro IncaBlock questo calibro qua non lo so non sono un tecnico però almeno a riconoscere sapere cosa significa IncaBlock no? è come che una macchina dietro c'è scritto diesel e ti mi dici questa macchina qua c'ha il motore diesel no? così funziona vabbè era un esempio volevo fare un esempio non mi è venuto comunque questo qua non lo so che calibro ci sarà scritto da qualche parte c'è anche le foto studia fai una foto guardi su internet le foto vabbè dai movimento alquanto basico che però il mio orologiaio quando l'ho portato a revisionare ha impiegato molto tempo a diciamo a riassemblare e a revisionare infatti è da poco tornato tornato in collezione l'ho comprato con questo cinturino con questo bracciale in acciaio che però non mi fa impazzire infatti penso di sostituirlo forse con un bracciale chicchi di riso il quadrante mi è piaciuto subito come l'inserto ghiera per cui per poche decine di euro ho deciso di farlo mio presenta un carica manuale niente non c'è molto da dire è un 34 mm e la ghiera bachelizze non c'è altro da dire allora ti hai detto che il tuo orologiaio ci ha messo un sacco di tempo a smontarlo e riassemblarlo no perché l'hai ricevuto da poco ti è tornato indietro da poco ma no non è che ci ha messo un sacco di tempo ci ha messo un sacco di tempo a farlo perché l'ha lasciato lì e diceva poi lo faccio poi lo faccio poi lo faccio ma poi come revisione ci metti allo stesso tempo che fare un qualsiasi altro calibro hai capito potevi anche farti dire il nome del calibro il modello tutte le specifiche invece dici che c'è il calibro Inca Block l'ultimo pezzo che è sicuramente quello di maggior valore sia affettivo che economico è questo Omega della fine degli anni 70 cassa completamente in oro 18 carati è un pezzo bellissimo è un lascito di mio nonno a cui fu regalato dall'azienda per il pensionamento e infatti presenta anche una dedica è un orologio che mi fa sempre emozionare quando lo metto al polso presenta un movimento 552 di cui vi lascio la foto e non c'è molto da dire è un quadrante pazzesco con una finitura champagne che lo rende estremamente godibile dal punto di vista estetico e che rispecchia pieno la qualità e il blasone che Omega 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 di cui Omega si freggia e che diciamo lo rispecchia con questo ho finito ti ringrazio per lo spazio che dedichi agli iscritti del canale per i loro video e ti auguro una buona giornata ciao buona giornata a te insomma avevi iniziato bene poi alla fine ti sei incespicato incominciato a rallentare arrampicarti però va bene l'esposizione c'è per l'esposizione ti ho un buon voto per la collezione di Donber 6 e mezzo 6 e mezzo perché non ho visto veramente tantissime spinnache poi l'orologio della nonna l'orologio che ti sei costruito te il tuo amico c'ho feca di un gas al quarzo il secco al quarzo preso in eredità il Monvis con il calibro Incablock secondo te e poi finalmente l'Omega che però è di tuo nonno cioè di te non ti sei comprato niente ti sei comprato il Monvis e basta cioè hai i bracini corti va bene 6 e mezzo tu hai dato anche troppo 6 e mezzo proprio quell'Omega automatic lì che però non è il tuo capito è un lascio un ricordo e non è che sei andato tanto avanti 6 e mezzo però vorrei anche rivederti a settembre insomma vedere se sei migliorato va bene prossimo video ciao Davide ciao ciao a tutti ciao a tutti i follower del canale i follower volevo mostrarvi i miei orologi non guarda è un collezionista perché non però mi piace accumulare orologi è un accumulatore seriale bravo vai ho appena iniziato ecco perché non ne ho tanti va bene e vi mostro il mio primo orologio che è un Orient bambino bello diametro 40 traccato però insomma il cinturino io l'ho messo io l'ho comprato l'ho messo io nero classico è davvero comodo ma mi piace molto bravo è molto economico è semplice certo via dopo quest'Orient un Citizen Pro Master full loom Aqualand Pro Master full loom ho anche il cinturino in gomma e l'ho indossato fino ad adesso col cinturino in gomma poi ho voluto cambiare e mettergli il suo bracciale ma mi sto pentendo della scelta penso che tornerò col cinturino in gomma ok ci sta ci sta è bello dopo di che un orologio che ho messo in vendita che mi ha stufato so che non ti piace è il brand insomma è questo venezianico ultra leggero 42 ultra leggero quanto pesa mi è piaciuto a dire il vero scheletrato il punto è che mi ha un po' si può dire rotto le scatole ecco anche a me mi rompono le scatole dopo di che il mio più recente acquisto questo Hamilton Kaki Field mechanical caruccio caruccio carica manuale sabbiato molto sottile volevo un orologio che riprendesse la guerra in Vietnam è un orologio militare di eccellenza ci siamo capiti però se posso trovare un gran difetto è la distanza tra la cassa e le spring bar delle Hans infatti voglio un cinturino verde militare penso che il nato sia più adatto ascolta questa era una delle caratteristiche che mi dava fastidio ti dico parlo al passato all'imperfetto perché adesso non è più così ad esempio ora questo qua no ma il Legend Diver da 42 ha le anse molto lunghe e con il cinturino fa quell'effetto lì è una caratteristica è una caratteristica che ho imparato ad apprezzare e quando guardo gli orologi con questa distanza tra cinturino e cassa li trovo particolari ora te gli dici giustamente ci vuoi far passare un nato così chiudi la luce lo spazio visivo e non è sbagliato ce lo fai passare single pass cioè uno solo che esce di qua entra di qua esce di là tagli lo spezzone e ti diventa un orologio sottile che con un single pass si alza leggermente ma essendo sottile lui di poco e quindi hai un perfetto orologio militare con il nato che è militare e secondo me è la morte sua hai ragione se magari mi vuoi dare un consiglio su che cinturino metterci che tipo di cinturino e te l'ho dato ora il requisito minimo è che sia verde militare no tornato va bene dopodiché dopodiché questo glazing combat sub qua davanti è blu bello un orologio davvero bello mi ha stupito quando l'ho ricevuto cioè seppure era comunque molto bello e carino molto bello appena l'ho ricevuto ci sono rimasto stupito non me lo aspettavo così è bello assai un'ottima sorpresa tra l'altro è anche molto preciso mi scarta 6 secondi al giorno buono 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 e ora faccio vedere i miei top diciamo vai mio Omega Sea Master acquaterra top del 2007 con il coaxial del 2500 il primo coaxiale che con scappamento con scappamento coaxiale eh ce l'ho anch'io uguale e io utilizzo questo il glissing come everyday watch davvero elegante e sportivo è anche tenuto bene dai sottile mi piace davvero tantissimo avrà bisogno di una revisione penso che non lo venderei mai 2007 ragazzo e per ultimo diciamo la mia chicca si può dire top questo evo sea portuguese year of the rabbit edizione limitata a 500 pezzi è pulito bello spesso però come si vede con il fondello a vista con il coniglio questo bel coniglietto in oro rosa come massa oscillante simpatico se vedete il mio pezzo è il 446 su 500 farfalla indici e sfere in oro rosa non so che dire mi piace davvero tanto è bello appena l'ho visto con questo quadrante color bordeaux me lo son preso subito seppure è costato ma quanto sarà diametro mi piace davvero tanto mi ha rapito cinturini è stato fornito con due cinturini uno nero e questo qua bordeaux che diciamo va a finire sul nero il nero lo vedevo un pochino troppo scollegato se così si vuol dire dal resto dell'orologio per cui gli ho voluto montare questo qua che è sempre il suo faceva parte della dotazione e che famo che famo ancora il calibro dovrebbe essere il calibro di manifattura iwc che inizia da montarli da poco cioè di vera e propria manifattura e basta così meno male un saluto ciao a tutti i follower del canale e un saluto a te davide un salutone vedete a volte vi perdete si allungano i tempi per delle pause non necessarie cercate di prepararvi un attimino prima va bene è una collezione di un sette e mezzo alla luce dell'acqua terra che è sempre un evergreen con lì bello faccelo anch'io e dell'ivc che mi piace non lo conosco la prima volta che lo vedo in vita mia vedete a volte si vedono e non conosco quale diametro abbia questo orologio quindi non so dirti se mi piacerebbe averlo o no perché un siffatto orologio con un aspetto così formale classico abbisognerebbe di un diametro diciamo al massimo 39 40 vorrei fosse un 41 42 e si va a perdere tutto nella padellosità dell'oggetto capito gli altri non me ne ricordo nemmeno figurati un po' come si è messi perché si è stato totalmente lento ah vabbè i classici il venezianico buttalo via mi tocca il cacchi feed il glessino ottimi 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 7 e mezzo se merita tutto dai poi c'è anche il promasto e full loom passiamo al prossimo video dai 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 che è più tardi dai 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 buongiorno Davide ciao a tutti io sono Francesco da Torino Francesco e questo è il secondo video che ti mando ti faccio vedere qualche aggiornamentino della mia collezione vai facci vedere ho una cosa da dire un po' a tutti diciamo parto con il mio longi oh carino calibro 994 che modello che famiglia è questa nei tempi era il più sottile al mondo vedete le condizioni di questo orologio è praticamente un NOS che ho comprato come regalo col primo stipendio in una gioielleria con i documenti ufficiali questo è un orologio dell'89 con dei riflessi sul quadrante spaziali ed è un orologio automatico appunto col calibro 994 che è stato l'ultimo di manifattura di casa Longin 994 si sepprevo 990 probabilmente 994 sarà la versione con la data 994 poi dopo è uscito non so se è l'ultimo perché c'è anche l'890 che a dispetto del nome che sembrerebbe prima non ricordo se è uscito dopo comunque trattasi sempre del solito della solita architettura con doppio bariletto questi qua c'erano doppio bariletto si è l'ultimo è degli anni 80 questo qua è già è già degli anni 80 cavoli siamo già veramente avanti va bene è l'ultimo è l'ultimo calibro diciamo dopo questo hanno incassato gli ETA gli ETA i classici 28-24 28-92 che poi chiamavano 633 non sono sempre chiamati L633 no? questo sì interessante però se un giorno tu volessi venderlo magari io c'è una piccola collezione nella quale potrebbe stare bene chiaramente a un prezzo da amico da amico questo te l'avevo già fatto vedere ma guarda che bello il fondello liscio con la sua spazzolatura originale questa è una fibbia a Leonjin che gli ho montato io ah ok non ci sta bene ed è proprio bello pensare a un orologio che sia così l'orologio dell'understatement diciamo perché anche da un occhio di un appassionato lo vede e se non riesce a leggere la scrittina automatic pensa che sia un quarzetto del nonno magari anche a Leonjin e invece sapere cosa si nasconde qua dentro che è anche un discreto pezzo di meccanica diciamo non è male averlo con i suoi documenti originali della gioielleria di Torino in cui è stato acquistato è veramente un onore ed è un orologio dal quale non mi separerò mai perché appunto a me questa idea che non dia nell'occhio che sia in realtà un pezzo veramente spaziale è una cosa non da poco questo calibro lo montarono poi anche Blank Pan e ebel su altri orologi questo l'ho ricordo comunque un movimento di quasi alta orologeria con il suo doppio bariletto appunto che gli permetteva di essere l'orologio più sottile del mondo questo è un orologio che penso sia spesso 3 mm forse 4 ma proprio a esagerare con la sua coroncina originale era veramente uno spettacolo bello assai senza la sfera dei secondi poi ecco 994 tanta roba 994 senza sfera secondi passo invece a due secchini uno dei quale ho ottenuto barattandolo con un bravissimo signore sardo ed è questo Seiko Actus 5 col suo vetro originale bella che il datario lì in condizioni anche lui eccellenti non è NOS ma quasi guarda che bello questo vetro qui col suo quadrante degradé col suo bracciale originale che però è sostituito con questo cinturino anche un po' per preservarlo perché era in condizioni eccellenti questo è un calibro a 23 gioielli era col fermo macchina un orologio solidissimo che ha appena fatto una bellissima revisione da un orologio molto preparato e che come vedi parte subito e funziona alla grande e tiene benissimo il tempo è veramente tanta roba complimenti questo orologino qui e ti passo al suo fratellino e cos'è? invece forse ti avevo già mostrato una volta che è questo Seiko Quartz SQ attualmente con la sua guarnizione in attesa di essere sostituita l'ho già ordinata perché ha i suoi anni e lui è un altro orologio che avevo acquistato NOS che ho veramente messo pochissime volte guarda le condizioni di questo bracciale ti dice tutto adesso è aperto proprio per la sostituzione della batteria che come mi insegna la nostra nemica ha gli effetti sul quadrante ma vabbè sarà la nostra nemica ma questa micropuntinatura diciamo che è quasi impercettibile ecco l'abbiamo beccata la batteria sarà la nostra nemica ma non sono questi casi mi ripeto io cerco di ripetermi perché almeno poi entra in testa alle persone perché sennò qua si fa sempre la sioma batteria al male in certi casi questo qua è il seco quartzo uno dei primi seco al quartzo il primo seco al quartzo è uscito nel Natale del 69 nel Natale del 69 ok nel Natale del 69 il primo seco commerciale no al quartzo e l'anno dopo sono usciti gli svizzeri quindi vuol dire che erano tutti lì che stavano in fermento per questo qua praticamente ha lo stesso valore diciamo del mio super quartzo della longina capito in collezione un orologio così ha super senso vengono quelli come te che cercano di preservarne l'originalità e lo stato vedo che vuoi cambiare la guarnizione no è quasi un'opera di bene che stai facendo no e te ne diamo merito e questo è il suo fratellino al quartzo diciamo era un SQ100 alto di gamma dei tempi ha un movimento un pochettino più raffinato mi sembra che si chiami 7050 sia 6923 sia codice di questo orologio vedi che è veramente un pezzo non da poco anche lui ah certo bom direi che per ora è tutto io quasi quasi ti lascio purtroppo per te so che forse ti piacerebbe ma questo non lo vendo e niente grazie di tutto Davide ci sentiamo presto un saluto a tutti un saluto a tutti sono un pochino addombrato perché stai utilizzando il mio canale per proporre una vendita la cosa non mi va anzi facciamo una cosa tagliamo tutta la parte che ho visto io e che hai fatto voi pubblico non vedrete quello che gli orologi purtroppo non li vedrete perché ho tagliato perché non si può utilizzare il mio canale con 20.000 30.000 spettatori per proporre gli orologi in vendita al prezzo scrivete nei commenti che li vendo allora cominciano a fare così tutti cosa diventa il mio canale un no no quindi taglio taglio la parte lì dove vende gli orologi per il resto niente 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 buon ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero che vi siano piaciuti i video anche se l'ultimo è stato mozzato per evidenti questioni che non andavano bene e vi ricordo di appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love